Ma di fianco a te abbiamo un personaggio che di personaggi ne fa una marea, una marea. L'abbiamo visto con Sgarbi, anzi ultimamente con Sgarbi ho visto che l'ha imitato sul discorso del volo. Sì, sì anche. È un mito, Simone Merini veramente una ne fa e cento ne fa, no cento ne fa, non so come dirvelo però ne fa tanti. Allora oggi io gli ho chiesto, così, Mr. Bean, perché lui ha la faccia di Mr. Bean, adesso ha la faccia di Mr. Bean, Mr. Bean, proprio lui. Quindi gli ho detto oggi portami Mr. Bean, poi è chiaro che mi piacerebbe farti fare tanti personaggi ma i tempi sono particolarmente ristretti in questa trasmissione. Oggi pensiamo a Mr. Bean. Ecco, come mai è nato Mr. Bean? Guarda, Mr. Bean è nato per caso perché, insomma, quando uscirono i primi telefilm di Mr. Bean, io naturalmente non potevo immaginare di avere una somiglianza con questo personaggio. Però mi ricordo, lo racconto a volte, ero a Roma a fare una gita con la mia amica, c'era un gruppo di cinesi che stavano passeggiando per Roma tranquillamente, mi continuavano a indicare, non capivo il motivo. Perché io in realtà in quei tempi non guardavo i telefilm di Mr. Bean appena sono usciti, dopo li ho visti chiaramente, sono molto divertenti. E mi indicavano e pensavano che io fossi, io ero vestito normale, naturalmente non è che ero vestito da Mr. Bean, pensavano che io fossi l'attore Rowan Atkinson. Allora, addirittura uno mi è venuto a chiedere l'autografo, Rowan Atkinson, e non capivo cosa stessero dicendo. E hai firmato come Mr. Bean? No, no, logicamente non capivo cosa fosse. Dicevo, no, I'm Simone Merini, ma non ho mandato quel paese, perché logicamente Simone Merini chi? Dopo in realtà ho capito, perché ho visto i telefilm, dopo ho... E da lì mi è nata spontaneamente la voglia anche di imitarlo, perché ho notato anche io delle somiglianze, ho studiato il personaggio, fino a, tra i vari che faccio, imitare anche lui, che è molto amato dai bambini, ma anche dai grandi, dagli adulti. Perché in fondo Mr. Bean è un eterno bambino, e in qualche modo rassomiglia anche un po' alla mia vita, perché io in realtà ho 42 anni, ma dentro di me c'è un bambino che è ancora vivo. Per il resto, il grande gasmo diceva che gli attori, gli artisti, devono tenere vivo il bambino che c'è dentro di noi, no? Sempre. Esatto. Quindi tu giri, ma quando fai Mr. Bean giri col pupazzino, ma dimmi dove l'hai trovato quel pupazzino lì, perché le precisi, è uguale. Sì, beh, ho un fornitore personale che sicuramente quando ho bisogno di qualcosa di Mr. Bean vado a lui, e poi diciamo che anche le movenze, diciamo, è chiaro che io nella vita reale sono me stesso, non è che giro come... Però, avendo lì, li ho talmente visti e rivisti i telefilm che sono divertentissimi, che naturalmente alla fine ho incominciato anche a prendere non soltanto la gestualità, ma anche la mimica facciale. Deve essere tutta una cosa legata al personaggio, naturalmente. Un grande, veramente. Quindi la voce, la voce, perché Mr. Bean... Perché non parla. In realtà Mr. Bean non parla mai, però quelle poche volte che parla, Bean, Mr. Bean, ha delle cose che denotano il personaggio, insomma. Sì, sì, ma io vorrei, mi piacerebbe fare una candid camera. Ah, sarebbe bellissimo. Non sarebbe carino, ma andiamo in giro lui da solo, come Mr. Bean, col pupazzino che lo fa girare così, noi dietro con le telecamere. È vero, è vero. Lo proviamo a fare. È vero. Anche te, con di fianco Lucio Dalla. Ma forse è meglio che lo faccia da solo. Tu dissi, eh. Ebbè, direi di sì per il Mr. Bean. Non parrei capire, ma è una cosa, ci penso, perché sai che io ho una mente un po' diabolica. Ha una grande fantasia, sei molto creativa. Eh, purtroppo per mia sfortuna sì, perché la mente non sta mai ferma. Però questa potrebbe essere un'idea. Per vedere, signori, quando noi per la strada incontriamo personaggi come lui anche, perché voglio dire, io se lo incontro per la strada, vabbè che adesso il grande Lucio non c'è, quindi ti viene spontaneo dire chi può essere. Chiaro. Chiaro. Però se incontro lui vestito da Mr. Bean, io rimango così e ci penso un attimo. Magari gli vado anche a chiedere l'autografo. Anche perché Mr. Rowan Atkinson è ancora vivo, per cui... Sì, appunto, ti viene spontaneo dire che può essere anche lui. Sì, potrebbe essere lui che gira. Però guarda, se in primavera possiamo andare in giro. Signori, attenzione, perché con i like tutto può succedere. Magari ci trovate anche in giro con le telecamere, con personaggi come Mr. Bean, nonché Simone Merini. Così, per vedere la reazione delle persone. E poi potremmo creare proprio una puntata, che idee che mi vengono, delle volte mi... Ogni tanto ci stupisci. Eccoci, mi sembrava che mi facesse un complimento. Lei, Vito, devi sapere che è la nostra opinionista. Sì. Quindi, tutto quello che noi diciamo, in teoria, lei non sta mai bene. Vabbè, la tua sembra un po' il pelone all'uovo, ma ci sta. Immagino cosa dirà di me allora, signora. No, no, nulla da dire perché... Grazie. Ah no, non puoi dire niente. Senza parole, quando mi ho visto, ho detto, oddio, ma dove si è capitato? Su, su, hai like it? Dove dire cosa? Sì, no, di pure, Vito. E' successo avanti ieri, se non sbaglio, in serata, in centro, in via D'Azeglio, più o meno vicino a casa di lui. Sono passate delle persone che sicuramente non sono di Bologna, perché ho visto anche il modo come parlavano. Ho visto una ragazza che ha fatto questo gesto qua, e lo vuol dire, cioè vuol dire tutto. Ha fatto tutto. Come se si è spalentata, no? Un fantasma. Ho detto, ho detto queste parole, so di essere bruttino, però da spaventarsi che si parla. Grazie, grande Vito. Un grande. Ma io adesso devo lanciare la pubblicità. Vorrei dopo darti la parola, intanto vorrei sapere dove sei, che cosa fai in questo periodo, perché Simone Merini non è solo Mr. Bing. Lui è presentatore, imitatore, presenta sfilate quest'estate, l'estate scorsa è stato… Anche quest'estate. Anche quest'estate, hai già tanti programmi. Ho già delle cose in baldo, che stanno poi anche con te naturalmente, per cui Sonia è molto brava a organizzare gli eventi, con l'occupito eventi. Anche quest'estate, hai già tanti programmi. Anche quest'estate, è al piazza, nulla Pietroari,ереi, Ghiadio, Grazie avete visto io prima di rientrare ho voluto mostrarvi quello che realmente è il nostro simone merini perché simone merini è sì mister b ma simone merini anche sgarbi simone merini e maurizio costanto simone merini è presentatore perché presenta in maniera molto professionale qualsiasi evento voi li possiate mettere a disposizione quindi simone merini è qui oggi con noi e voglio con la sua voce quindi la mia voce non di mister b e che voglio che ci racconti che cosa in programma e soprattutto le prossime serate che ti ricordo saranno quelle penso dei fine settimana giovedì 19 oppure venerdì 20 ecco racconta certo intanto per farla breve comunque basta che voi andate sulla mia pagina ufficiale di facebook simone merini pagina ufficiale trovate sempre i miei appuntamenti i miei spettacoli aggiornati in tempo reale velocissimo sabato 21 di gennaio io sarò fra gli ospiti e mi esibirò fra il mio show di imitazioni e sarò insieme al grande cantante paolo mengoli al palazzo di varignana per un grandissimo evento a favore per la ricerca sulla sola quindi un evento molto importante per aiutare la ricerca sulla sclerosi multipla io vi invito a venire numerosi e sabato 28 di gennaio sempre insieme al mio grandissimo amico nonché bravissimo capartista jelson saremo insieme a fare lo spettacolo occhio a quei due nel bellissimo bar quindi simone merini noi lo sapevamo già con gelso perché gelso è stato ospite nostro la settimana scorsa e ci aveva appunto parlato di occhio a quei due e ci ha spiegato anche il perché di questo titolo perché oggi è genso è un mito è un numero uno lo salutiamo un grande amico e posso dire di più è stato anche un mio maestro perché e lui mi ha insegnato tanti trucchi su come stare sul palco come fare spettacolo insomma anche se ho fatto delle scuole di recitazione però ha una grande esperienza è veramente molto bene si no se veramente no già l'esperienza ne ha e l'abbiamo visto ve lo ricordate vero no per te ho dei problemi sempre a farti perché mi guardavi con una faccia come per chi era no no ricordi io non ho problemi di memoria no io sì per di nomi i nomi non me le ricordo signori faccio una fatica bestiale a ricordarmi i nomi sarà la bella età quella che è insomma ragazzi comunque signori oggi siete su ai like chiaramente si parla di sosia chi meglio di vito deri che è sosia chiaramente di lucio dalla e chi meglio di simone merini sosia del mondo secondo me perché veramente ne fa di cotte di crude io ti ho visto all'opera ti ricordi sosia i falsi quasi uguali c'eri anche tu i falsi quasi uguali che abbiamo fatto in una bellissima piazza di goro e lui era presentatore insieme a me quindi non era non era solo ospite mi hai onorato di condurre con te era proprio un presentatore però mi ha fatto la il regalo di farmi uno un piccolo show con vari personaggi c'era luca giurato si vittorio sgarbi torno sgarbi anche perché vittorio sgarbi a livello ecco se andate su youtube fra i vari personaggi che faccio vittorio sgarbi è uno dei più gettonati diciamo a livello nazionale e l'ha incontrato si l'ho incontrato più di una volta lui è una persona di persona lui è gentilissimo ha preso molto bene la mia imitazione anche perché non lo faccio in modo offensivo per cui dicono che in italia sono uno dei più grandi imitatori di vittorio sgarbi e insomma lui lo sapeva e si è fatto due risate insomma no ma infatti ho visto che se non avrebbe detto capra 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 meridi capra invece è stato gentilissimo così no ho visto l'ho vista l'intervista l'ho vista l'intervista beh insomma io vi dico che su I like it avete la possibilità di vedere di tutto e di più oggi ho avuto l'onore di avere due grandi personaggi e mi auguro veramente di poter lavorare con voi io parlo della primavera perché in inverno veramente per me no no non ho idee particolari in inverno entro nel letargo più acuto e quindi non ho veramente più insomma non lo so sarà sarà fatta così sarà perché sono nata maggio può essere che rinasco verso quel periodo non lo so però insomma ho il piacere ho avuto il piacere di avere qui con me questi due grandi personaggi volevo sapere da vito tu a parte che so che non canti no vai in trasmissione perché non ai programmi da se per il 3 marzo qui a bologna il 5 a imola se non sbaglio con stefano fucili che è un cantautore che ha collaborato con luce insomma quindi vai con lui a fare si è giusto quindi ripeti 3 marzo 3 marzo qui a bologna il bravo caffè se non sbaglio si è un bravo caffè credo o l'altro che non mi ricordo come è un mito sei peggio di metterlo e poi a imola e comunque lui c'è su facebook vito deri vito deri poi vedete cioè vedete chi è cercatelo eventualmente gli chiedete l'amicizia lui vi dice dov'è cosa sta facendo perché sicuramente risponde a tutti sicuro e simone merini vi ha raccontato che sarà presto al bar liliana che è un nostro sponsor quindi bar liliana si trova in via san donato 66 barra 3 potete fare colazioni ci sono i pranzi veloci ma ci sono gli apericenti sono ogni ogni sera dalle cinque metri sei in poi c'è questo gran buffet a 6 euro si a 6 euro comprese la prima consumazione si mangia veramente tantissimo molto bene ve lo consiglio si mangia si beve ci si diverte e poi tante serate di karaoke quindi chi vuole cantare anche può cantare insomma è una bella cosa quindi tanti eventi tante appunto il tempo mi stanno dicendo che è finito siamo arrivati ormai alla fine attenzione do la parola a lui vito deri sosia ufficiale di lucio dalla per quanto riguarda i saluti è stato un piacere essere qui con voi e vi ringrazio spero che alla prossima puntata ci sia ancora presto perché ti voglio qui prima di marzo perché ho sentito che hai delle serate quindi voglio che tu vieni qui vorrei che tu venissi qui a parlare delle di queste serate e io ci sarò perfetto grazie la parola simone merini allora ciao a tutti da simone merini anche da mister bin goodbye 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 ciao a tutti